Non ci mettiamo il validator all'interno della destinazione. Sì, adesso posso aggiungere tre, diciamo, destinazioni. Però vogliamo fare un controllo che mi abilita il pulsante cerca, soltanto cerca. In realtà questo cerca viene disabilitato perché? Perché la distanza bisogna metterci qualche cosa. Togliamo via un attimino da qui. Ok, togliamo via un attimino questo validator square sul luogo. Lo togliamo via. Quindi vogliamo abilitare il pulsante cerca. Ora, se io aggiungo diverse destinazioni, il pulsante cerca è sempre abilitato. Vogliamo fare in modo che si abiliti quando tutti i campi presenti in questo form array siano riempiti. Quindi andremo a creare... Voi direte, ma sì, ma prima ce l'hai messo il validator square? Sì, lo so, ma in questo momento stiamo imparando. Quindi andiamo a creare un custom validator. Cioè, un validatore di tipo custom da aggiungere in maniera tale che mi faccia il controllo che questo form array sia congruente. Allora, come si fa a creare un custom validator? Intanto, dove dobbiamo mettere il custom validator? Lo andremo a mettere nel form group perché tutto il percorso per percorso dovrà essere valido. Quindi andremo a definirlo qui dentro. Quindi diremo validators, due punti. E qui ci facciamo un array. E diciamo qual è il mio validator. Andiamo a definirlo così. Faremo private perché è un validatore che servirà soltanto qui all'interno del nostro controller. Lo chiamiamo custom validator. Questo custom validator dovrà ritornare control, due punti, abstract. Control. E sarà una row function. Questa row function, sulla base di questo return, se ritorneremo null, occhio eh, questo è importante, se ritorniamo null, significa che il validatore è passato. Se passiamo un oggetto di tipo, quindi commentiamo un attimo, di tipo return, un oggetto, errore, custom, due punti, controllate, controllate i valori delle destinazioni, questo caso significa che il validatore non è passato e quindi il form ha un errore. Come andiamo a definirlo qui? FIS.CustomValidator. Adesso lo andremo anche a tipizzare perché ovviamente qui è tutto quanto anonimo, però adesso andremo anche a tipizzarlo. Intanto andiamo a vedere se effettivamente dall'errore, come vedete, è disabilitato. Non posso aggiungere nulla. Quindi, ad esempio, qui che cosa avremo? È un abstract control, ma siccome lo stiamo definendo all'interno del form group, questo control, e ve lo faccio vedere, se io faccio un console log control, andiamo a vedere la console, diciamo salva, vedete? Qui mi sta stampando diverse volte il form group e abbiamo un form group. Non vi fidate, mettiamo pure customValidator. Cirgola, control. Andiamo a vedere customValidator.com form group. Quindi questo control, perché? Perché l'ho agganciato al form group. Se questo lo agganciassi, ad esempio, alla destinazione, ok, qui, alla destinazione, ok, faccio aggiungi, eccolo qui, abbiamo un form control. Quindi togliamolo da qua, perché noi stiamo creando un validatore custom sull'intero form group. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo dire frmgrp di tipo form group form group è uguale lo castiamo come abbiamo visto prima control. Ok, quindi form group è tipizzato. Ma che cos'è questo form group? È abbiamo il path e poi il form array. Chiaro? Ovviamente questo non è tipizzato. Quindi l'intellisense in questo momento se io faccio frmgrp punto non sa che cos'è. Abbiamo control se è vuoto non mi dice niente. Perché bisogna tipizzare. Quindi andiamo a tipizzare anche il percorso. Quindi andiamo a definire anche interface per percorso i per percorso form group in realtà questa non sarebbe il percorso sarebbe il singola destinazione ok i property ha il path quindi andiamo a metterla qui path due punti form array di di che cosa? Di ai percorso form group scusate ai form array di un form group di ai percorso form group e così l'abbiamo tipizzato ora questo hyper percorso lo possiamo aggiungere qui quindi tipizziamo anche questo form group ecco qua l'errore risolto il problema dove eravamo eravamo sul custom validator il custom validator se non serve passare dei valori può diventare direttamente private e passare solo le referenze l'unica cosa è il discorso del vice si potresti farlo anche così però adesso questo in realtà che cosa dovrebbe ritornare poi lo vedremo meglio nella sync in realtà io non lo farei mai così wise man io perché poi magari questi validatori invece di tenerli qui dentro li esporterei una classe separata che magari mi potrebbero ritornare utili anche per altre cose che dove stiamo facendo quindi il form group qui è il control ma in realtà questo form group è hyperpercorso form group quindi andiamo qui quindi form group di tipo hyperpercorso form group quindi questo qui ha hyperpercorso form group quindi adesso è tipizzato se io adesso faccio frmgrp.controls magari controls. c'ho la property noi dovremmo andare a controllare però i valori quindi nel form group posso prendere il value andare a vedere il valore quindi const current value uguale frmgrp.value current value adesso andiamo a vedere guardate un po' diventa un partial di path di partial di destinazione con le quadre quindi è tape safe ragazzi questo significa che se sbaglio in compilazione mi darà un errore ed è all'inizio non sembra ma questo vi salverà la vita quando andrete in produzione perché perché sarà se a compile time ci sarà qualche errore avete sbagliato il nome di qualche variabile questo vi salva la vita a questo punto dobbiamo andare a controllare che tutti gli elementi all'interno di path abbiano destinazione vuota cioè non abbiano destinazione vuota quindi che faccio per esempio creo una variabile else error i punti string o null a questo punto faccio current value path ovviamente il path è un partial quindi devo metterci il punto il path che cos'è? è un array di destinazione quindi posso fare un for each quindi possiamo mettere un p e qui fare il controllo if p punto destinazione è uguale uguale a null oppure il punto destinazione punto length uguale uguale a zero qui magari length possiamo mettere uno street type esatto qui possiamo lasciarlo uguale uguale a null perché potrebbe anche essere non defined no? allora se null o length uguale a zero qui mettiamo controllare il valore delle destinazioni altrimenti ritorna null in realtà non posso fare un return perché sto facendo un for each quindi as error è uguale a questo quindi è l'errore ovviamente non può essere una stringa ma deve essere un no facciamolo ritorno una stringa se no ve lo complico troppo facciamo così as error è questo copiamo il tutto questo diventa una stringa oppure un null if as error not equal null facciamo un bel return questo perché as error ok uguale a null è sempre ragione lui oppure ritorno a null ok quindi cosa abbiamo fatto per ogni elemento del form group andiamo a verificare nel caso in cui non ci sia un errore passo null altrimenti fa il ritorno di questo oggetto andiamo a vedere se aggiungo validazione vedete che si disabilita nel momento in cui vado a fare a scrivere qualche cosa si riabilita se io cancello questo si disabilita tutti ora vogliamo però far vedere la scritta controllate i valori delle destinazioni copiamoci questo errore che è un tipo che abbiamo definito andiamo nell'html e nel nostro controllo di percorso che è formattato veramente molto male nell'add magari prima ci mettiamo uno small e qui facciamo ngif che cosa dobbiamo controllare che ci sia quell'errore come facciamo form punto controls punto per percorso punto as error perché perché l'abbiamo messo questo errore a livello di form group se all'errore custom errore custom allora facciamo vedere in data binding il valore dell'errore perché perché ritorniamo una stringa quindi prendiamo questo punto errors anzi get error ci facciamo ritornare errore custom salviamo aggiungiamo e come vedete come vedete abbiamo possiamo anche dire qual è ad esempio l'indice no certo come giustamente dice fabio non ha molto senso perché potevo mettere il validatore quale su ogni singolo e avevo risolto il problema però come vedete possiamo creare dei custom validator e agganciarli a nostra form oppure al abbiamo visto il custom validator abbiamo visto che possiamo passare una stringa ok nel nostro validatore e poi farla vedere all'interno del del nostro codice html andiamo a vedere un'altra piccola chicca solitamente oltre ad esserci il validatore prendendo ad esempio l'esempio che ne so del proprio della registrazione uno degli esempi più classici che si fanno di async validator è controllare che il nome utente già non ci sia cioè il back endista ci crea l'esempio Grazie.